Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sembrava che si fosse finalmente palesata la verità in relazione alla strage di Ustica da che Giuliano Amato nei giorni scorsi aveva cantato e come usa dire aveva sputato il rospo. Ricorderete senz'altro, ne avevamo discusso anche qui sui nostri canali social. A proposito, seguiteci su tutti i canali, su Facebook, YouTube, Twitter, Telegram e così via. Amato aveva detto che la responsabilità della strage di Ustica era dei francesi, aveva anzi intimato a Macron di chiedere scusa all'Italia, insomma sembrava che la verità fosse finalmente emersa anche se non proprio in maniera tempestiva se si considera che la strage di Ustica fu del 1980, giugno 1980. Meglio tardi che mai si potrebbe ragionevolmente dire, certo, anche se poi non si è chiarito su che basi Amato lo dicesse. Era emersa una nuova prova? Se sì, quale? E se non c'era una nuova prova perché non hanno detto da tempo già come era andata realmente con la strage di Ustica? In ogni caso non si è fatto in tempo nemmeno a discutere fino in fondo della vicenda che già è arrivata la smentita. Sui principali e più venduti quotidiani trovate infatti la smentita di Amato che dice che forse si è confuso. Così titola almeno libero, ma si trovano titoli analoghi su altri giornali anche. Forse mi ero confuso le parole di Amato che quindi smentisce quello che aveva detto nei giorni scorsi in relazione alla tremenda strage di Ustica. Ora voi capite che al cospetto di queste scene, di questo retromarce improvviso, di questa verità che dopo 40 anni sembra emergere e poi viene dopo due giorni ritrattata, ecco, sorga spontanea una domanda. Come si pensa di poter arrivare mai in questo paese alla verità e alla giustizia? Questa e non altra è a mio giudizio la domanda che abbiamo il dovere di porre in quanto italiani.